Il significato della giornata dell'innovazione che celebriamo per il terzo anno consecutivo è quello di dare un messaggio di condivisione e di comunicazione, quello che è il titolo della giornata oggi, il futuro è oggi fra comunicazione e condivisione. Il tema centrale della giornata è stato l'ICT, però noi vogliamo comunque che il tema rimanga generale, nel senso che quello che ci siamo proposti di fare è stato praticamente di mettere in contatto la scuola con il mondo delle imprese ed è quello che abbiamo provato a fare con un bando di concorso che si chiama Idea Impresa e che ha coinvolto 5 istituti della provincia di Goma e 9 squadre hanno partecipato e l'obiettivo che ci siamo dati è quello di praticamente mettere in contatto le scuole con le imprese direttamente fin dall'inizio dello sviluppo delle loro idee, questo ha funzionato nel senso che dare l'occasione ai ragazzi di mettere le mani in pasto, di avere l'occasione di toccare con mano, di avere uno scambio di opinione con gli imprenditori, di avere un parere tecnico ha funzionato molto bene, anzi devo dire che ci siamo sorpresi moltissimo per l'entusiasmo che abbiamo trovato da parte dei ragazzi per questa occasione che gli abbiamo dato e da parte anche delle imprese che hanno partecipato, ci tengo a precisare che quest'anno abbiamo avuto la collaborazione di Comonext che ci ha ospitati per il secondo anno di fila, Confindustria Como, il Politecnico di Milano con il pollo regionale di Como e l'Università dell'Insubria e questo ci ha portato veramente a collaborare, a fare il sistema, a tenere unite le risorse e da questo punto di vista ci possiamo dire molto soddisfatti, speriamo che la cosa continui e che si dia respiro a queste iniziative, i ragazzi sono stati molto bravi, hanno lavorato veramente con entusiasmo, durante il pomeriggio abbiamo avuto il convegno mattiniero in cui abbiamo coinvolto tutte le scuole che hanno partecipato al progetto e nel pomeriggio praticamente avremo un bel po' di laboratori rivolti alle imprese e quindi questa è l'occasione per unire sia le imprese che le scuole, mettere insieme tutti e fare in modo che si comunichi, ci si scambi la conoscenza, questo è l'obiettivo fondamentale di questa giornata.